Continua senza sosta l'attività di contrasto ai reati contro la persona da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa. Durante i festeggiamenti del carnevale a Chiaramonte Gulfi, gli uomini dell'arma sono intervenuti in seguito a un'aggressione patita da un giovane nigeriano ad opera di un altro connazionale che dopo un diverbio lo aveva colpito alle spalle con un oggetto da taglio. I carabinieri hanno dato immediatamente impulso all'attività di indagine procedendo all'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e all'escussione delle persone presenti ai fatti. Le investigazioni hanno permesso di individuare le responsabilità del gesto in un giovane nigeriano il quale, rintracciato nel comune di Chiaramonte Gulfi, è stato condotto presso gli uffici della locale stazione dei carabinieri. Terminate le procedure di identificazione e le formalità di rito, i militari lo hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate.